buonasera a tutti sono cristian carignani enologo e cotitolare dell'azienda vitivinicola tenuta la macchia oggi andremo a degustare il nostro continuo quindi la nostra bolla rosè frutto di due annase diverse quindi che cosa andiamo a fare viene considerato un martinotti lungo quindi lungo 7 8 mesi sui diaviti perché prima prima vendemmia quindi seconda fermentazione mantenimento sui diaviti per circa un anno poi l'annasa successiva dopo la seconda fermentazione abbiamo un mantenimento sui diaviti per circa 4 5 mesi quindi due vasche con 7 atmosfere di pressione che poi andiamo a rendizzare quindi effettuiamo un bled e poi andiamo andiamo in bottiglia quello che vogliamo ottenere con questo prodotto è un giusto compromesso tra che cosa tra uno schermann e un metodo classico quindi deve avere delle note fattive fresche e anche delle note un pochino più evolute e riconducibile al lavoro che è stato fatto ovviamente sui diaviti ma andiamo a degustarlo anche qui abbiamo un colore molto vicino al nostro rosato fermo quindi al nostro nostro materia un colore abbastanza intenso molto brillante frutto anche di un ph ovviamente basso bollicina bollicina decisamente decisamente fine si formano queste queste catenelle preziose che sono molto importanti per tutti gli spumanti andiamo al naso naso molto variegato note note burrose della fragolina fragolina di bosco della della ciliegia anche qui ritroviamo un po di scorza di arancia andiamo a degustare bollicina finissima molto molto fitta anile carbonica che va a arricchire questa freschezza scidola dandole ancora più piacevolezza tutta la parte fruttata la ritroviamo in ingresso con questo questo finale con un pochino di frutta sega quindi leggermente leggermente mandorlato stiamo parlando di un 5 grammi litri di zuccheri quindi una bollicina rosè a tutto pasto produzione di 2600 bottiglie l'anno con che cosa posso abbinare la nostra bolla anche questo è un prodotto molto molto trasversale trattandosi di un rosè indubbiamente con degli sformati degli sformati di verdure salumi formaggi 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 freschi quindi con una presenza di di nota lattica anche importante di nota grassa la bollicina e la freschezza di questo spumante sicuramente vanno a bilanciare molto bene questi formaggi freschi il crostacei con ovviamente una consistenza dolce come tutti crostacei dei funghi benissimo e ultimamente l'abbiamo provato anche con delle melanzana parmigiana quindi prodotto altamente altamente abbinabile e trasversale anche con questa degustazione la degustazione del continuo abbiamo finito ci vediamo alla prossima degustazione grazie grazie a tutti grazie a tutti